ciao amiche e amici benvenuti nel solito mensile appuntamento playstation plus da marco drums games channel andiamo a vedere i giochi del mese di giugno 2022 allora god of war ragazzi hanno messo una bomba una bomba vado for è spettacolare è un gioco veramente incredibile ha una grafica pazzesca lo conosciamo tutti o se non l'avete giocato giocatelo perché è fantastico io l'ho platinato al day one comunque è un gioco bellissimo e uscirà probabilmente quello nuovo quest'anno è quindi giocatevelo assolutamente hanno poi inserito naruto tubo ruto shinobi striker devo dire che l'ho provato è molto carino è molto carino cartonoso è in italiano quindi parlato chiaramente no ma scritto e invece quando fuori di prima è tutto in italiano ed è molto carino è molto carino poi soprattutto le gare online dove vai dentro che ammazzano in due secondi è veramente divertente e poi hanno messo questo gioco ragazzi nickel oden all star brawl che è davvero davvero divertente fa fa davvero leader io ho giocato con mio figlio e davvero usare i personaggi di nickelodeon per potersi ammazzare di vuote è veramente figo chiaramente in game si parla sempre di videogiochi e le tartarughe ninja un sacco di personaggi fighissimi è proprio proprio divertente ok ragazzi allora io direi poi ci sono i soliti sconti extra pacchetti esclusivi tipo vedete genshin warzone rocket league brawl alla un altro warzone e football di calcio master duel yugio un sacco un sacco di sconti che potete riscattare gratuitamente se avete fatto l'abbonamento plus e ricordo a tutti comunque ragazzi che a fine mese poi ci sono anche tra l'altro sconti sui giochi è se avete il plus e a fine mese cambieranno tutti gli abbonamenti che ci saranno tutti i vari abbonamenti quello uguale a questo poi ci sarà quello un po più che si chiama essenzial mi sembra quello un po più figo che non mi ricordo e poi il top che è quello che vi fa anche provare due ore di gioco senza comprarlo quindi io direi che a fine mese c'è da spendere un po di soldini per fare il nuovo rinnovo degli abbonamenti della playstation plus di sony mitica playstation ciao a tutti i ragazzi da marco drams games channel il solito appuntamento playstation plus di giugno è terminato iscrivetevi al mio canale youtube facebook twitter instagram tiktok twitch per le live e ci vediamo al prossimo mese col prossimo video anche se cambieranno i pacchetti di abbonamento comunque i giochi che regaleranno tutti i mesi saranno sempre tre credo speriamo almeno ciao a tutti i ragazzi da marco drams games channel è tutto al prossimo video ciao amici e amiche mitici